Ciao a tutti ragazzi e ragazze, giochiamo a Dogs Finalmente Ora giochiamo Alla 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 allora io posso avere paura sto facendo tutto un colpo ragazzi poi guardando la canzone la canzone no 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 Ecco me l'ho fatta Chi è che sta spostando i mobili? Chi è che ha un pendolo? Cos'è questo rumore? Non è un'orchestra Una matita Che cosa facciamo con la matita? Madonna santa però Fa 20, fai 20 E' un'orchestra E' un'orchestra Un'orchestra Non devo lacchiare E' un'orchestra 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 Che vuoi? Psss Che cosa psss E' un'orchestra Vicente E' l'mzamato E' la madonna Vi dico che se arriva quello che corre E mi prende Io mi spavesso chi è che mi alita negli orecchie? che schifo 24 stavendo ansia ragazzi antepaura ma che tanta stanca e c'è da una magione non so come perché l'onso è giusto è giusto è giusto è giusto non è veramente Mi inganna il fatto perchè la pioggia non è che c'è un mosquito. Che cos'è? Se no io le idee di notte qua non mi vedo netflix. Che cos'è? Cosa stai avendo ansia? Sicuramente questo video sarà lungo secondo me. La Vergine mi ha chiamato... ah no. Come l'ho detto? Pensavo che la Vergine Maria mi aveva chiamato però... per dire fai veloce però... Lo ripeto sempre. Per dire fai veloce. Per dire fai veloce. Per dire fai veloce. Per dire fai veloce. Vai. Eh no. Edda. Per dire fai veloce. Per dire fai veloce. Per dire fai veloce. Con il cavolo. I'll payne it I'll go back I'll go back Aspettate un attimo che Madonna mi sono spaventato Che cazzo Emo c'è l'altro posto L'abbiamo chiamato Aspettate un attimo che mi devo un attimo calmare Perché ho avuto paura Quanto on Cuffi Quella suoni eh Quindi devo fare meramente piano Sono accopacciato perché non posso spiegher così Non so se i termini ripassi Allora Chiede una X Questo è Libri eh Dov'è sta? Dov'è sta? Popapo che so' giovane Quarto Dov'è sta? Dov'è sta? Dov'è sta? Allora Allora Prima E il posto ce l'abbiamo Aspettate un attimo che Aspettate un attimo che Aspettate un attimo che Non mi spazzo Non mi spazzo Ma è sempre il mio cane Cuffi Calmo Cuffi Cazzo Cazzo No no Bravo 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 Cuffi Scusa Non mi esce più giusto 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 Madonna, mamma! Grazie! Mi manca, solo due! Ce l'attosso io questo, eh? Ce l'attosso! Non riesco a prenderlo! E' spinto qua! Guarda, papà! Ehm... Stella! Manca il mio logo! Certo! No! Un'attesa! Eh, se ne vado! Questo è? Ce l'abbiamo! Allora! Allora! E' c'era però! E' fichio mia! Oh, madonna santa! Che balla! Che balla! Oh no! No! Pensione! No! Oh! Aspettate per un attimo ragazzi che è buon'antenna agini la tua no la e いや il grazie a tutti Sì, non è vero. Cacchia c***a Oh madonna eh no mi ha scattato cacchie che già non si vede un cacchie ah dentro i cacchi di gioco mi tenero un impatto eeeh moe non mi ha scattato eeeh moe non mi ha scattato eeeh moe non mi ha scattato ce ne sto andando benissimo eh andamme la miseria c'ho ancora il cacchie fisso che ho stato dando in testa a rush Blasch, detto anche Blasch Meh Mh Mh Noo Emo 60 61 2 3 I'm good Lui è da uccidere Che è che ha fatto un scorreggio? Allora Oh No Tutto santo Non so Non so Ok Qui sta Mh Che vu? Lui Qui è un altro Lui è un altro ma non l'avevo messo in altre bomba che bel dipinto, come sia, quadrati, quadranti, madonna sanzi, forse è un video più lungo credo, no, non ricordo io ho fatto un video ancora più lungo però, non c'è, è andata via, io non vedo nessuno però non so, non so, non so nemmeno cosa finire il capio porca putta ragazzi oh cristo santo va la fan qui quello va, va ci fa vendà nooo è vero c'è un'altra volta tu cazzo eh buongiorno vuole un altro tu cazzo tu cazzo tu cazzo tu cazzo tu cazzo Ah no, che stavo Grazie Va bene Va bene Io non ho fatto mai la seconda rincorsa Per me può andare anche così Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ragazzi Wattah Oh In Ehm Spero che in questo video ci sia da tutto E ci vediamo alla prossima Ciao